La situazione degli asili nido a Teramo sta diventando fonte di preoccupazione per genitori, personale educativo e sindacati. In una nota congiunta, Mauro Pettinaro, segretario della FP CGL Teramo e Marco De Febis, coordinatore della FP CISL Teramo, hanno espresso il loro disappunto per le promesse non mantenute e gli errori ripetuti da parte del Comune di Teramo. Diverse le tematiche al centro delle polemiche che hanno portato a questa situazione di malcontento. C'è tanto caos, c'è tanta incertezza, ma soprattutto c'è molta confusione dalla parte politica e amministrativa di questo ente. Noi da oltre sei mesi che pressiamo, ma possiamo dire che il tutto inizia un anno e mezzo fa, dove noi già avevamo contezza che una delle strutture nido del Comune di Teramo, Casetta, sul fiume, gestita da una cooperativa, doveva essere atto di ristrutturazione e quindi doveva chiudere. In questo periodo nulla è stato fatto affinché si potesse trovare una struttura alternativa. I sindacati hanno posto l'accento anche sul problema delle alte temperature registrate nei nidi durante l'estate, che rendono necessaria una ricognizione delle strutture per garantire microclimi adeguati. Sei mesi fa i sindacati avevano sollecitato il Comune a intervenire preventivamente, ma ad oggi non sono stati effettuati i lavori, lasciando in risolta la questione in vista dell'estate 2024. Il microclima l'anno scorso in queste strutture ci ha portato delle temperature nel mese di luglio di oltre 40 gradi. Proprio perché i nostri amministratori non hanno nessuna programmazione, si sono visti obbligati a comprare i cosiddetti pinguini, messi praticamente nelle strutture, che oltre ad aver risolto male il problema, ma hanno creato anche dei problemi che potevano avere anche un'evoluzione drammatica. Noi non abbiamo all'epoca voluto fare comunicati o altro per allarmare, ma è bene che oggi si sappia che gli impianti elettrici non hanno tenuto il carico dell'energia richieste dai pinguini. Oggi siamo al 3 giugno e non abbiamo ancora nessun riscontro, nessun lavoro è stato fatto, nulla è stato fatto.